Dal prossimo 15 di novembre i certificati anagrafici saranno disponibili e scaricabili online gratuitamente, questo grazie alla Banca Dati Nazionale che metterà in rete tutte le informazioni anagrafiche. Ce ne parla Danilo Sinibaldi. Forse sarà la tecnologia a sconfiggere la proverbiale burocrazia del bel paese. Dal 15 novembre di quest'anno, infatti, tutti i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici anagrafici comodamente seduti davanti al picci di casa, accedendo al portale anpr.interno.it. Niente più code, attese agli sportelli e mattinate di lavoro perse. Si potrà fare tutto online, in maniera autonoma e completamente gratuita. Basterà avere una buona connessione. Serve lo stato di famiglia, un certificato di residenza o di nascita? Si fa tutto da casa o dall'ufficio, tramite il nuovo servizio dell'ANPR. L'anagrafic nazionale della popolazione residente del Ministero dell'Interno, infatti, si potranno acquisire 14 documenti diversi, a cui si ne aggiungeranno altri nei prossimi mesi, ha spiegato il Ministro per l'Innovazione Tecnologica Colau. È un altro passo sul percorso della modernizzazione e della digitalizzazione dell'Italia. Meno stress, risparmio di tempo e di denaro. Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti, disponibili anche in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo e potranno essere rilasciati anche in forma contestuale. Al portale si accede con la propria identità digitale, speed, carta di identità elettronica, tessera sanitaria e se la richiesta è per un familiare, verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un documento. Verificata la correttezza dei dati, si potrà scegliere di scaricarlo in formato PDF o riceverlo via mail. L'anagrafe nazionale della popolazione residente è destinata a rivoluzionare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Ad oggi raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con circa 7.800 comuni e rappresenta un punto di riferimento con informazioni aggiornate, condivise e immediatamente consultabili.